Benvenuto al corso Parlare in pubblico. Come fare presentazioni di successo. Mi chiamo Paolo Pelloni e mi occupo di public speaking da 20 anni. Vorresti essere più efficace quando fai le presentazioni e convincere l'audience del tuo pensiero? Ti piacerebbe avere successo quando parli in pubblico e motivare le persone a seguire le tue idee o comprare le tue soluzioni? In questo corso ti mostrerò che anche tu puoi diventare un grande oratore e che i benefici che ne trarrai ti ricompenseranno enormemente. Si tratta di un programma completo dove ti guiderò fra tutto quello che devi sapere. Dalla preparazione ai supporti visivi, da come fare una presentazione al convolgimento dell'audience, dai principi di comunicazione a come gestire domande e risposte. C'è un poco di teoria, solo quella che davvero serve, e per il resto vedremo come farlo nella pratica. Ti darò riferimenti a video di ottime presentazioni dalle quali imparare e soprattutto il tuo piano d'azione. Insieme ad essi riceverai uno schema di lavoro per preparare una presentazione, 5 principi di design per le tue slide, l'arma più efficace a disposizione di chi parla in pubblico e molto altro ancora. Non dimenticare che questo corso ha una garanzia di 30 giorni. Se non sei soddisfatto, sei rimborsato senza alcuna domanda, quindi non corri alcun rischio. Non aspettare, inizia subito a fare presentazioni più persuasive. Il tuo messaggio, il tuo prodotto o soluzione e la tua carriera meritano di essere spinti da una comunicazione efficace. Più aspetti, più tardi riscuoterai benefici. Accedi subito facendo clic sul bottone Take this course e ti aspetto nel corso!